E la cosa brutta è che è quello, io poi, secondo me, questo trend del scherzare sui tipi di case che vengono assurdo come una mosca sei riuscita a distrarti più del mio sguardo Pensavo fosse una zanzara, l'ho temuto Tigre, e questa è la tigre che c'ha l'energia, gli serve un'antistaminica la tigre No, le case che poi inizialmente, questi video divertenti, hanno mosso poi delle polemiche un pochino più costruite Non mi ridere sulle polemiche, perché c'è la zanzara che va in corno Questa è la tua DHD, ti rendi conto, guarda Sai che c'è, mi è venuta con l'età, quando il mio piccolo non era così, cioè ero super concentrato, adesso Già il fatto che te ne rendi conto di avere la DHD, che è importante, è il primo passo verso una soluzione L'accettazione Pog, il podcast, è quella chiacchierata tra amici nel bar di una vita È quando sei immerso nei pensieri e vorresti solo staccare la spina È quel targitto in macchina talvolta infernale, che sai già benissimo con chi lo vuoi passare È quel bicchier di vino che mi tanto ti concedi, ma che in compagnia ha tutt'altro sapore Io sono Alessandro E io sono Daniele E questo Questo è POV Il podcast Ma ancora Ma io ripeto Ciao Ciao Ale Oi Versami Come ci sei finito qua? Cioè noi iniziamo come se fossimo di passaggio, però siamo qui con le cuffie Io sono veramente di passaggio a casa tua Tu non ti rendi conto di quanto il podcast sia un'occasione per poterti vedere anche? Vero Stare un po' insieme La vita, la vita ci ha portato anche a questo Stare insieme con una quantità moderata di alcol Perché ci teniamo a far vedere No, no, me la versi tu perché si sa Aspetta La birra ha un altro effetto, non so Vero? Qualcosa di più mascolino potremmo dire? Sì, peccato che è al limone Esatto La birra dei gay La birra al limone È quando ti senti un po' macio dentro, però un po' macio capatonda probabilmente Perché La chiedi a un pub e ti portano dritto dritto in carcere O in bagno Si fa cinne con la birra? Eh? Si fa cinne con la birra? Ma che ne so Bella E... Ridammi il mio amico Ti posso dire, però Quella con il limone è un pazzino È tipo dolcissima Ma sì, ma non è Non sa di quel... Della... Mi lo diranno Io non sono grande fan della birra, ti posso dire? Vero? Cioè, della birra classica Ok Cioè, nel senso, la bevo Forse più socialmente che per gusto, capito? A quel punto mi piace più il vino Dà un po' un attitude, vero? Come hai detto tu prima, la birra Cioè, se stiamo in un pub e tutti quanti fanno un Merlot Ponti Un... non so, forse è no Merlot Ponti che è uno studioso Un... Capito? Un... un amaro del capo Tu... una birra Eh... Però... Non avrà qualcosa da raccontare È vero, però sei anche molto average Perché poi vai... vai al pub e mi è capitato di tutti quanti birra No, mi dai Ina Ipa Per me... una Weiss Bla 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 E poi arrivo io Una pesce Mi pare che si chiama pesce Buonissima La birra di mischietta Una pesce È un mischietto con la... con tipo un tè alla pesca Con un succo alla pesca Daniele Se ti piace sta roba Ti piace assolutamente anche quella Mi pare la pesce si chiama E il barista quando poi devi fare il conto Fa il ragazzo gay paga a parte per la pesce E... una posh E... una porsh Senti Che belva ti senti oggi? Che belva ti senti? Che belva ti senti? Te lo volevo chiedere Che belva ti senti oggi? Come descriveresti il tuo umore? Con questo caldo pezzato Oggi ragdoll Perché non sono pronto al caldo Domani chi lo sa Domani sia mese Quindi mi sei un po' scura in volto Sì Pelosa Ok Morbidina Capito? Io una lontra Perché ho voglia di giocare ma fa caldo Chissà sa Diamoci un... Chissà sa Allora In realtà è successa una cosa Cioè lo spunto di questa puntata In realtà viene dal reale Ok? Sì Non è bassa mondo di finzione Possiamo parlare anche di altro che non sia quello Dentro la nostra testa c'è anche un fatto Ci sono i fatti veri Ok? Non solo le nostre fantasie Succede che una ragazza Poco fa Praticamente lo sapranno tutti Cioè non siamo noi quelli che ve lo dobbiamo spiegare È arrivata questa tipa Che si è diciamo accampata Davanti alla sua università Nello specifico il Politecnico di Milano Esatto Ha preso la sua tenda Quechua Perché lo stente fuori sede Questo compra O Quequa Se seguite le puntate da un po' Giusto Dopo la camporella fatta vicino al Decatron Si compra la tenda E che succede? Si accampa davanti al Politecnico di Milano Per protesta Esatto Cioè lei dice basta Il caro affitti L'affitto è insupportabile È caro? Perché è un caro affitti? La situazione è sempre peggio E quindi io cosa faccio? Mi accomodo Mi prendo il mio termos Il mio ramen istantaneo E mi piazzo davanti all'università Per protesta E te ce cago pure L'affianco Faccio pure sentire che C'è una grande leggenda Che dice che Quando mangi ramen istantaneo In realtà poi Le feci Mi odorano un po' di quello Oh guarda che i criminologi Sono le prime cose Che segnano Per capire Se c'è un identikit Del killer Mangia tanti ramen Lo percepiamo dai gesti pubblici Quello è il fatto È che Cioè Ci siamo sentiti vicini A questa ragazza Possiamo dire Beh Una persona che deve In qualche modo cercare Deve far fronte A tutte le spese E le economie che ha Per potersi permettere Uno studio Perché qui non stiamo parlando Di una protesta Perché la ragazza voleva Un tatuaggio nuovo E non se lo poteva permettere Voleva potersi un concerto in più Diritto allo studio Cioè Se io magari abito In Salento Spinto E mi voglio Voglio il mio sogno Che voglio andare a Bicocca A Milano A far architettura È il mio sogno E siccome noi siamo Nei nostri Ancora nei nostri 20 Ci siamo detti Perché non parlare Di questa ragazza Come una scusa Per parlare di noi Perché tutto riguarda noi Alla fine Ti rendi conto Che cacchio di egocentrismo Che è questo podcast Io ti tengo a ripetere La justificazione Che tu devi dare agli altri È che siamo segni di terra E in qualche modo Noi siamo Sì però ti dico la mia Sai che io Brutto però Sai c'è un evento Io peggio Di base perché Perché siamo studenti Siamo studenti Siamo lavoratori Siamo studenti lavoratori E ci sentiamo toccati Da una vicenda come questa Di una persona che Per potersi permettere Di studiare Magari il suo sogno Che non è una cosa Stratosferica E magari Non abita In una città Adatta Che le permette Di studiare Perché ricordiamoci Le università Sono molto spesso Concentrate All'interno di Poli urbani Ben specifici A cento buchi In provincia Di san benedetto Del tronto Ascoli viceno Non trovi L'economia Lettere Capito Certo Sì sì Ma infatti Allora io Dato che sapevamo Insomma di affrontare Quest'argomento Devi sapere Dani Che io Ho un'abitudine Ho il momento Prima Chiudo la telecamera Che devi dire Prima di andare a dormire Ho il momento ricerca Anni fa Anni fa Io Evitavo anche Di addormentarmi Per ore Perché entravo Nei cunicoli Di wikipedia E da voce Vado a voce Da voce Vado a voce E arrivavo Partivo magari Da dualipa E arrivavo Cioè praticamente A che ne so La tettonica placche Quelle cose lì Ok E quindi dico Basta Faccio il mio momento ricerca E ho proprio approfondito Questa questione Del caro affitti L'università Questa situazione E il punto principale Proprio quello che dicevi tu È Il problema Legato all'università È l'antichità Delle università italiane Ok Vedi Bologna Vedi Roma Vedi Torino Milano Soprattutto Bologna Che è la prima Occidentale La seconda mi pare Che è la Federico II Di Napoli Tutte le università Hai studiato bene Madonna 8 più Che ti devo dire Tutte le Un po' le università Di maggiori Sono concentrate appunto In città storiche Ma soprattutto Turistiche Quindi che succede La gente si sposta In grandissime quantità In queste città Per studio O per turismo O per lavoro Insomma Le questioni sono quelle Tu pensa Tu hai una casa Lo so che è strano da pensare Ma tu hai una casa In una città Come Roma Ok O come Bologna Come Torino Come Milano Da proprietario di casa Tu hai l'intenzione L'intenzione di affittarla La daresti Ad un ozzelloso Ventenne Che non pulisce il bagno Oppure A dei turisti Che pagano Per una settimana Il triplo E la settimana dopo Non sono più gli stessi Magari ti fanno più casino Anche dell'ozzelloso Però Alla fine hai preso Otto volte di più Che fai? Mi devi specificare Che vuol dire Gliela darei Perché In quel caso Dovrei guardare Prima l'ozzelloso E poi i turisti Per capire A chi la dare Nel senso Fammi capire A chi la devo dare E Vabbè Nel senso Me l'hai palesata così A parte che hai condito Di attributi negativi Questo ragazzo Che mancava che dicesse A fucomelico Gli manca la parola E c'ha le piatto Invece il turista è top Cioè invece è il contrario Il turista invece casualmente È ricco Veste bene E ti fa tanti complimenti Beh se ci pensi Però se ti prende L'appartamento privato Per una settimana Sicuramente Ha una disponibilità economica Almeno media Insomma Medio alta Capisci Quindi La situazione è proprio questa È che i landlord I proprietari di casa Hanno proprio detto Ma per chi me lo fa fare Di dare la mia Casa mia A questa gente Che poi magari Me la distrugge totalmente Che poi Ti dico Il rischio più o meno è lo stesso Però I prezzi sono diversi Cioè La disponibilità economica Di un ragazzo Al mese Sostanzialmente pagato Dalla sua famiglia È uno E pensa invece Il turista che va lì Per spendere Perché sa che spenderà soldi Quindi Sai quanta La disponibilità C'è di più Perché tu Il proprietario di casa Non lo sai Ma quei turisti Sono amici del ventenne Zelloso Al quale non hai dato casa E quindi Ti lo rovideranno Perché ci entrerà Comunque Ciao zelloso Ciao zelloso Sarà il tipo Della puntata scorsa Mauro Quello di scarpe scarpe Scopritelo Con la puntata scorsa Mauro zelloso Mi fai pensare Al fatto È come quando tu Hai un ingrosso E devi comprare Una grande quantità Di un oggetto Che di per sé Ha un costo Ma se lo compri In grande quantità Il costo diminuisce Quindi lo studente Che magari te la tiene Sicuramente almeno Per tre anni Perché Ma fidate Da studente Anche quattro Cinque Non è un problema Quanti anni uno ci mette Io non ho mai superato Non ho mai superato Un anno e mezzo Nella stessa casa però No no A fine degli studi Dico Cioè Lo studente Sicuramente ha una finalità Che è quella Di terminare gli studi E quindi magari Ha bisogno Di una quantità Di denaro Diluita In una quantità Di tempo Più grande Magari il turista Per tre settimane Ti dà l'equivalente Che ti darebbe Lo studente In tre mesi Tutti in una botta Perché gliele fai pagare Ah quello è il caro affitti Che caro Un po' caro E la questione è proprio questa È che se tutti quanti Gli appartamenti O comunque le disponibilità private Vanno a finire Per il turismo Cosa rimane agli studenti? Poca roba Cioè veramente poca roba E quindi C'è lotta Perché il prezzo è alle stelle A quel punto Perché la domanda è tanta L'offerta è poca E quindi Ma Macroeconomia? Ciao No questa è microeconomia Mi sa Mannaggia Questa è una delle tante lauree Che prendi sulla tazza d'eccesso Mentre scorri E fai Ma se premo click Mi danno un riconoscimento Prima mezz'ora Del primo anno Però intanto ti vanti E quindi Il prezzo è alle stelle E tutti ci lamentiamo E dico io In realtà giustamente Possiamo dire Ok caro affitti La diamo ai proprietari La diamo ai turisti O la diamo ai Ai ventenni cellosi A chi la diamo La diamo E mi piace questo Leitmotiv Che torna Ma La cosa sulla quale Vuole un attimo Porre l'accento È Che cosa stiamo dando Perché Tu Ti capita mai Di vedere video Di gente Che fa delle Satire Sul tipo Di appartamenti Che vengono venduti A Milano Mi sa che Questa cosa è nata Su Milano Dai Tutti ci siamo Imbattuti In quella persona Che fa il video Scherzoso Dove C'ha magari Una cantina Di casa sua Perché abita A Freggene E ti fa Fingendo Sono un proprietario Che ti vende Casa a Milano E fa Vieni E ti fa entrare In questo sottoscala Dove non c'è il bidet Non c'è la cucina E ti fa Allora sono 1.600 Perché è un posto sentito E Vicino a servizi Esatto E i servizi Li fai a terra Perché più o meno È quello No ma anche quando Il tempo fa È proprio diventato Penso un trend Quando c'erano tipo I coinquilini Tutti distesi Nella stessa Praticamente Un metro Per un metro Di stanza Forse era il video Di coinquilini a Bologna Non era fake E non è Cioè tutto vero E sta gente che rotola Praticamente su di loro Perché non c'entravano Io mi pisciavo ai tempi Bellissimo Questa cosa poi però È diventata un monito Per persone Per fare delle vere inchieste E c'è un ragazzo A Milano Che chiede A dei ragazzi O delle ragazze Che vivono In dei Come coinquilini And they were roommates Come dei coinquilini O dei O hanno casa da solo Per dire Hai qualcosa da denunciare Cioè pensi di essere Stato sfruttato Per Se vuoi Chiamami Che facciamo un giro di casa Parliamo un attimo Di chi sei E lui ha un format Non mi ricordo Cioè le iene Che sbarcano su tiktok Però un pochino più Tett a tett Cioè non deve essere Nuccio VIP delle iene Cioè posso essere pure Daniele Taurino Che viene lì E ti fa Ci prendiamo un caffè E vediamo Capisco Ma che condizioni Muffa 40 metri quadri Compreso dei condominio Cioè tutto il condominio Sono 40 metri quadri Tu ce ne hai 5 Ma che cosa stiamo facendo Io non so Su sta cosa sono veramente Cioè ti dico La notizia mi ha toccato particolarmente Perché la vedo proprio Sulla mia pelle La vivo Perché poi Io ho passato un po' L'età studio E sto arrivando in quella lavorativa In cui lo stipendio Non ti permette di base Di essere indipendente totalmente Almeno per quanto mi riguarda Oddio Forse ultimamente è un po' meglio Però non voglio dirla Non me la voglio Ti andavo un attimo Le gasatte Il fatto che non può essere Sempre merda Stavolta mangio Coscossa No Quindi capisco il fatto Cioè come Come devi fare Se inizi a prendere Un piccolo stipendietto Magari Ce la fai Però il 50% Il 60% De sto stipendio Se ne va in affitto E cioè praticamente Sei comunque costretto A chiedere soldi A qualcun altro E se non hai una famiglia È un problema Di distruzione A chi cazzo lo chiedi Quindi Cioè veramente È proprio frustrante L'idea Ma cioè Poi io ho guardato I dati E a Roma Tu quando mi guardi i dati Amo non ce la faccio Cioè Non mi ricordo È bellissimo Perché io parlo di dati Ma non dico mai la fonte Questo è il sintomo di DHD Comunque Mi perdi la concentrazione Però 8416 881 Parliamo di numeri E a Roma Circa il 36% Dello stipendio Di un Di un giovane È pagato per l'affitto Che tu dici Oh dai Poteva andare peggio Sai quanto è a Milano Il 51% Dello stipendio È in affitto Cioè è stimato Che circa il 51% Del tuo stipendio Mensile Lo paghi per l'affitto Quindi capisci Ma mi dà anche fastidio Il fatto che poi da fuori La gente dica Eh però siete un po' Troppo pretenziosi Ragazzi C'è gente che vive In 5 metri quadri E L'odore del cesso Del salotto E della cucina E della camera Hanno tutti lo stesso odore Perché sono tutti quanti Nella stessa caccia De stanza Cioè io devo cagare Con a fianco Il rubinetto Cioè capito Eh non mi va Cioè Ok non facciamo Di tutta l'erba Un fascio Non tutti Non vogliono il lavoro A 500 euro Che ne so O pretendono La casa dei loro sogni A me dà fastidio Quando poi Lo stereotipare Butta nella merda Persone che si fanno Un culo così Che non si concedono Una vacanza Da anni Che non si concedono Un piacere per loro Da anni E devono essere messi Nel mucchio Del perché Perché hai Intorno a quella fascia Di età Sì Poi è vero È anche una questione Un po' generazionale Assolutamente Cioè ci viene un po' Vista come il Comunque non ci avete voglia Siete voi che non Sembra che non ci sacrifichiamo Abbastanza Che io non posso dirti Vero Non è vero Non lo so Però nel senso Ma dai Credo che sia La lotta continua Della generazione Precedente Con quella successiva Ma come i lavori Che esistono adesso Vengono screditati Perché fai video Io andavo a lavorare Eh Ok Pur io Cioè nel senso Solo che tu ti spaccavi le mani Magari a fare un lavoro Un pochino più fisico Io invece C'ho un lavoro più intellettuale Che ti devo dire Ognuno se la inventa Come può Chissà Se un giorno No ma cosa volevo dirti No ma invece Parlando proprio di noi Cioè esperienza personale Com'è stata la tua L'ingresso in una città Metropoli Proprio a livello di casa Cioè come Come hai trovato questa casa Rispetto alla tua Cioè come hai vissuto questo passaggio Allora Ah Che Che flashback Anche perché so Dove cosa si parla Esatto La sovrapposizione Allora È stata Bella Per tanti punti di vista In realtà Secondo me Chiunque Ha la possibilità Economica Di poterselo permettere Un'esperienza Da fuori sede Con altri coinquilini È bellissima Perché nel bene O nel male Nel bene Nel male Ti insegna A campare E anche a morire Esatto Nel senso Tu Tu crei una famiglia Con delle persone Che fino a prima Non sono niente Giusto? Perché io e te Siamo stati coinquilini anche Giusto La cosa assurda È che Ognuno di noi Ha un po' Un impasse Che deriva da Anche cose Stereotipate Che ogni famiglia Ti porta a fare Ci sono famiglie Che magari Che ne so Ti obbligano A alzare per forza La tavoletta del cesso Qual è la tua cosa Un po' strana Che hai dovuto Per cui hai dovuto Fare coming out Con i coinquilini Ma che prima era normalissima E adesso capisci Forse sono un po' strano io Non so Allora Mi è venuta una Ma la devo mettere in modo particolare C'era una cosa Che a casa mia Era vietata Che forse è anche giusto così L'unico posto dove la tua bocca Può masticare cose È la cucina Ok Anche da me è così un po' Non esiste che tu vai a mangiare Devi avere 40 di febbre Le placche E la mononucleosi Tutte insieme E forse mi padre Mi guardava e faceva Non ci credo Però Mangi in camera Ok Per me mangiare in camera È un fetish Ah cioè poi adesso Te lo sei portato Sì Cioè il divieto Ti ha portato a ribellarti Però delle volte Ho dovuto specificare Che non fosse motivo Di mancanza di voglia Di instaurare un dialogo Era È un momento For myself Allora Io ho bisogno di me Questa cosa così Così non ce l'ho Cioè nel senso Proprio una cosa specifica Proprio specifica E chi mi conosce lo sa Io sono cresciuto con una Secondo me è un'abitudine alimentare Per qualcuno particolare Non proprio una ricetta Non un'abitudine alimentare Una ricetta che per qualcuno Può suonare strana Io probabilmente l'ho fatto Anche con te Cioè assolutamente Penso Cioè almeno una volta a settimana Mi stai incuriosendo Che è In qualche modo succede E io sono cresciuto Una delle mie merende Di mia madre Cioè quelle che io ricordo Col batticuore È il mio toast No Sottiletta e tonno No 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 Raga io lo so che suona strano Non è che suona strano Amo c'è Cioè l'ho capito dopo In realtà Ronald Probabile serial killer Questa c'è Anche tutte le persone Che mi conoscono Che sono all'ascolto La pira fra i ruttini Sì Anche un sacco A me un sacco di pipì Tutte le persone all'ascolto Che mi conoscono personalmente Che sono state a casa mia Di miei genitori Intendo Hanno per forza Fatto merenda Con il toast E con il tonno E anche mio fratello Cioè era proprio la cosa E a un certo punto Ci siamo evoluti Stosto con tonno Più caffè d'orzo Quella è proprio Era la combo definitiva Io non ti so spiegare il motivo Era così punto Credo che hai una linea Caghi come il demonio Dopo Veramente Più che altro vorrei invitarvi Tutti a pop Per vedere qual è La cosa che vi ha poi Fatto diventare Cresciuti in comune Cioè quale stranezza Vi ha portato poi Non lo so Tipo sculacciate Sculacciate i cuscini del divano Che fate poi Cioè Devi dici Per compensare Come conseguenza Ah certo Eh su questo Non ti so dire Ma ti posso dire che Provalo Poi me ne parlerai Se vuoi fare La sofisticata Mi togli la sottiletta E mi aggiungi Un formaggio filante Che può essere Una scamorza dolce Tipo una pasta filata Un galbanino Una cosa così E lì Proprio Cioè Rottura Non riesco Io sono un pesciarolo Io sono nato In prossimità del mare Per me Mettere i formaggi Insieme al pescello Lo so Lo so Ehi ma Se io ci penso Un po' Ma quella combo Ragazzi Cioè io so Chi è all'ascolto E mi conosce Fatevi sentire Non è che a te piace Perché per te È anche un po' Un retaggio emotivo Cioè tu lo tieni per te Assolutamente È come se Vostessi stato abituando A mangiare cetrioline Nutella E a una certa Fai no raga Esatto Però cioè io poi Ho portato questa cosa a Roma La faccio La faccio anche Non con costanza ormai Purtroppo Però mi capita spesso Di farla E l'ho fatta assaggiare A persone vicino a me Strano che tu Non ti ho ancora obbligato No Però ho avuto Dei feedback positivi Anche da altre persone Quindi secondo me Ci stiamo solo Espandendo Un giorno Sarà una cosa Normalissima Il toast Col tonno Sai mi hai fatto pensare A Oltre al fatto De Costruire una famiglia Con le persone De casa Sconosciute Esatto E anche appunto Condividere le proprie stranezze E sai cosa ho pensato Non so se Chi ci ascolta Vi è mai capitato Di dover affrontare Un colloquio Per poter No i casting I casting Perché è un vero Proprio grande fratello Perché la situazione è questa Tu ti immergi Perché Allora Le opzioni che ti si presentano Inizialmente sono due Agenzia O gruppi facebook Facebook Tutta la vita No no Poi mettici tutte le Anche l'annuncio fisico Se puoi essere Nella città di destinazione Qualche giorno prima E vai in giro E strappi per l'università Nelle bacheche Guarda il numerino privato La soluzione a volte Però devi essere più disposto Anche telegram Però poi Sofia ti becchi la foto Del cazzo del tipo Perché su telegram È più facile La planimetria è questa Questi sono i miei testicoli Se vuoi Sono affittabili entrambi Non mi chiesto nulla Però volevo comunque Farti vedere Dato che non vieni Ti mostro quello Che ti sei persa E Diventare Quei inquinini di qualcuno È un po' Una specie Di veramente Casting È un po' Un esame orale Di triennale Ma tu parli Da persona Che era precedentemente Nella casa Oppure che sta entrando Ho fatto entrambe io Io invece no Inizialmente abbiamo fatto Tutti quanti La ragazza Che si presenta Che viene da fuori La Sofia Loren Che fa C'ho i miei valori Io no Perché sono stato Il primo Per puro caso Ad arrivare Nella casa nuova In cui non c'erano affitti Precedenti a me Perché prima c'era Una coppia di anziani Quindi sono arrivato E mi sono scelto Dividevamo tutto l'affitto Quindi era una cosa Molto tranquilla Ho scelto una camera X A mio piacimento E poi è arrivata L'altra persona Che io in realtà Non conoscevo Per cui non ho nemmeno Fatto richiesta Né niente Quindi è subentrato A un certo punto Scusate Perché c'è un altro essere umano Io non ho fatto richiesta Per questa persona E poi invece Mi sono limitato Il casting Cioè andando sempre Ad abitare Con persone che conoscevo Precedentemente Capito Cioè iniziando Ad allacciare rapporti Ok cerchiamo casa Nella mia eri bramato Cioè non vediamo l'ora Che tu arrivassi Io non ho fatto casting Anche per quel caso Cioè anche nel tuo caso Quindi tu non sai Che significa Io nel senso Io ho fatto solo colloqui Ma non l'ho subiti Io ho visto colloqui di terzi Perché ho assistito A dei colloqui Ok E poi ho fatto Vari colloqui Anche successivamente E io sono stato Anche il soggetto Di colloqui La cosa più brutta L'annuncio No ma a parte l'annuncio Sì che poi È una vetrina Cioè tu devi essere bravo Hai ingappato tutte le cose E come in una buona relazione Stabile Amo ti mostri matta Quando ti hanno fatto entrare Cioè tu all'inizio Ma certo Non dici che le caccole Le prendi e le metti sotto al tavolo Perché c'è sta maniata Quando c'è tre anni e mezzo Ma certo Dici no Sono tutto ok E Dai Ci divertiamo Dai E poi sparisci Però la cosa che mi dà fastidio È che tu in quel momento Devi accettare Tra virgolette Le stranezze dell'altro Cioè ad esempio Tu puoi entrare in una casa Che ti dicono Guarda Non accettiamo fumatori Mi dispiace E no toast col tonno E no toast col tonno Esatto Sappiamo di te Quello degli annunci Di anni precedenti Però qui dentro Ci abbiamo Una tipa Che ascolta musica A tutto volume Fino alle 4 di mattina E un'altra che si buca Quindi nel senso Se vuoi entrare Cioè Un po' di compromesso Basta che paghi È bello secondo me E poi quando sei tu Ad avere il potere Però la ti senti male Perché tu parti Col presupposto che dici Io so stato te So quanto è difficile Però poi veramente Arrivano dei casi Umani Ma che cazzo Allora io ti posso dire È terribile fare la selezione All'ingresso Ma naturale Dovrebbe essere fatta prima Eh lo capisco Cioè dopo quando ti ci trovi Con il matto in culo vero No Quindi da una parte Triste ma Raga Cioè bisogna fare De necessità per tu Che poi io penso Vivere con altre persone Ti insegna una grande cosa Un giorno Tu avrai Il tuo spazio Peripersonale Tuo Di nessun altro Quindi Vuoi pisciare fuori La tavoletta Vuoi lasciare I piatti sporchi Vivere con altri Ti dà un rigore Che prima te davano Tu madre e tuo padre A forza di mazzare Adesso te lo auto imponi Pensando di essere cresciuto In una società Dove dici Porto rispetto Anche per l'altro Ma la cosa importante È capire che uno Raga Molte delle persone Che io conosco Che non hanno avuto Un'esperienza di quei inquilinaggio Non puliscono casa Da sei mesi Perché dicono Vivo da solo Cioè che la tua Posso fare il cazzo Che voglio Quindi non mi devo preoccupare Ma amo Non funziona così Perché la scabbia Già Marco È nata da casa tua Cioè Ci sono casi di scabbia A Roma Ricordate One No No perché ne è più One È Andred Cioè sono tanti Sono tanti Ecco aspira Wuhan Forse è meglio così Un po' Mulan Eh sì No secondo me La cosa principale È proprio L'idea Che quello vicino a te Sia un potenziale Assassino Comunque non sconosciuto E il fatto Non ci hai mai pensato Il tuo conquilino Che tu hai conosciuto Su Facebook Perché ha messo L'annuncio E tu hai risposto In realtà È un rapporto Che poi si viene a creare Ed è bello Cioè personale Non necessariamente poi Cioè io posso pure Non legare quelle persone Che ho in casa Però comunque È sempre un potenziale Sconosciuto Non ti sei mai Dico una cosa strana Oggi sono strano Perché Ti sei mai fermato A pensare Ma chi sono queste persone Che mi circondano Cioè a me mi ci fanno Anche con i miei genitori Perché tu stai Guardi Ma chi è sta gente Cioè in fondo No Ma chi sono queste persone No Io ne chiamo opportunità Cioè il fatto Di tu non conosci E puoi potenzialmente Avere un rapporto Pazzesco Nel bene e nel male Nel senso Non è una cosa Per forza brutta Tu mi hai pensato Quindi anche Hai pensato su di me Che ne so Tu stai Tu l'hai pensato su di me Noi abbiamo visto insieme Da di chiunque Veramente ma di chiunque Che tu dici E che hai pensato Sai che ne so A pranzo A pranzo Ti guardi intorno E tu dici Ma che è Cosa sta Perché loro Perché qui Perché qua Io sono Ma da Non spessissimo Adesso sempre meno Quindi forse Stiamo migliorando Ma veramente Mi capita spesso Di guardare le persone Che mi circondano E dico Ma in fondo Sta gente Chi è Amo io ti ho appena immaginato Tu con i tuoi primi inquilini Con loro a tavola Il primo vostro pasto in comune Io non ti conosco Con loro Con loro che fanno Quindi che combini Che fai nella vita Tu col boccone là Che pensi Dammi del lei Ma perché sono qui Tu con un attimo Un momento di dissociazione E loro che fanno Ale Ale perdona Dai Cioè tu non l'hai mai guardato Ma io ti dico Anche proprio Tu madre La guardi e tu dici Ma tu no Cioè Questa persona Chi è No Amo tu hai un po' Dele Perché è proprio questa C'è la possibilità Di poter switchare Oggi Ale Voglia di interazioni Veramente E con inquilini A me questa cosa è È elevata all'ennesima potenza Perché poi alla fine Ti abitui alla faccia Di tuoi genitori Di tuo fratello Chiunque Invece con i inquilini Che sono Proprio sulla carta Potenziali Cioè sono sconosciuti All'inizio Poi non lo sono più Però sono degli sconosciuti E tu fai un po' Questa scommessa Col fato In cui dici Vado E guarda Che io pensandoci oggi Al mio trasferimento Io mi sento coraggioso Cioè dico Ma guarda che cazzo Ho combinato Anche perché L'esperienza è di merda Finisce sui Conquilino di merda Che è una pagina Che mi invitiamo a seguire Su facebook Dove tutti gli episodi Un pochino più particolari Che i inquilini compiono Vengono Quello della cucina Lo stesso? Quali? Cioè sempre del Conquilino di merda Però versione cucina Cioè quello che cucina L'ambito È sempre lo stesso Sotto gruppo Ti giuro Quello è il mio preferito In assoluto Mi fa pisciare sotto Non lo so A me piace l'idea Nel senso Di base Penso Non sono il tuo primo Conquilino Quindi avresti potuto Far fuori tutti quelli Prima Prima di me E anche perché Se poi toccassi a me Te chiederai Perché io? Perché gli altri no? Come a me? No ma infatti Ti dico Poi in realtà Il riscontro è positivo Cioè la cosa è bella Perché ti apre A mille possibilità Cioè tu ci hai pensato mai Al fatto che Con la storia del conquilinaggio Di base Potenzialmente Hai sempre la possibilità Di stare Di vivere con qualcuno Fisicamente Cioè la solitudine Viene un po' meno Beh non è detto Perché dipende Se l'altra persona Vuole Ovvio Certo Però di base Se l'altro vuole C'è un altro scoglio ancora Quanto lo vuole l'altro Perché rischia di trovare Per questo secondo me Quando uno può Con gli amici Esatto Tu sei conquilino amico Conquilino conquilino Eh io attualmente Allora Io attualmente vivo in una casa Che non è la composizione iniziale Ne è rimasto uno Dei tre che eravamo Originali Esatto Che è diventato attualmente Mio amico Ma la nuova persona Che è arrivata È una mia amica Da prima Quindi io sto vivendo Questo doppio rapporto Di base per me è fantastico Perché io sono una persona Estremamente introversa Che vive momenti di Facciamo cacciara Però poi a un certo punto Si ha Cioè a un certo punto Io me ne devo andare Io mi devo chiudere in stanza E se tu mi cerchi Stai sanguinando Che cosa è successo? No Voi non lo sapete Voi non sapete Perché non avete avuto Il privilegio di vivere Con Daniele Taurino Daniele Taurino Potrebbe Potrebbe anche Non presentarsi In cucina O in un ambiente comune Mi piace questo senso Però intanto la pubblichiamo Perché comunque domenica arriva Capisci Vabbè Però ecco Esatto Perché in questo Twink Arni Una delle cose Che ti vorrò dire In quella Twink Tornando al Non per forza No si dice minuti Sì Piccolini Tornando al discorso iniziale Potrebbe essere Un punto di remerito Nella vostra scheda Magari qualcuno Non vuole Twink Come coinquilino E quindi magari ti presenti Discriminatorio però Quindi Michele Porta sempre della barba finta Nel caso uno Tu scoprissi Che sono Twink Fobici Bene Allora quindi Noi abbiamo parlato Per mezz'ora Quindi Ci approdiamo Verso altri lidi Non credi? Sì Non senti fame? Una cifra Io il finale Che ti proporrei Per fare una sorta di Escursus No L'escursus non c'entra in niente Tu mi devi impedire Di utilizzare parole Che io sento Ogni tanto Poi convinto Di possederle La lingua italiana Sono la crusca Che è Stai ripiantata Per quante cazzate dico Nel fatto che È un'esperienza Che la ragazza In questione Dal quale abbiamo fatto partire Un pochino Tutto quanto Oddio un cerchio Sì Che si chiude Un oro boro Perché c'è la fame Il serpente Il serpente Che si mangia la coda E ci ha fatto capire Che Cose che sembrano Per noi così scontate Episodi come questo Come quello di questa ragazza Se da una parte Muove Una Una critica sociale Molto forte Dall'altra spero che Per persone come me E come te E come tanti altri Che ci ascoltano Ci ascoltano in questo momento Sia un modo per Essere felici Di quello che abbiamo Nel senso Non è scontato Potersi permettere Un alloggio Al giorno d'oggi Cioè una volta Era assurdo Potersi permettere L'università Adesso è assurdo Potersi permettere Un alloggio Per poter studiare Un giorno chissà Cos'altro sarà assurdo Ma sì infatti Quindi Sai qual è la prospettiva Secondo me Dimmi Tutti che tende Tanto guarda Buttiamo giù sta palazzina Capito Buttiamo tutti dentro La tua voce Riconosco No ma il fatto È che La prima cosa È che Speriamo Si muova qualcosa Dai piani alti Cioè che ci sia più Un Una strategia specifica Perché in realtà Sono già uscite cose Non stiamo a approfondire Vero cercate da sole Esatto Aiutateci a viverci Nella città Dobbiamo fare i campus Secondo me Dobbiamo vivere Nel campus All'americano Capito Che senso Eh cioè ci dobbiamo allontanare Un po' Dalle città Tipo Roma E stiamo magari A Fregione Dove c'è un campus Con pieno di studenti Con università Che non siano magari Merdose E cioè Spostiamo un po' La vita universitaria Dai grandi poli Cittadini A invece Delle situazioni Tipo all'americana Tipo i campus americani Sarebbe bello Secondo me Oh butto là Non è che Se si fa perdere Tu ci pensi Oh no Sarebbe figo Entroterra abruzzese Tu dici Esco Esco da Roma 3 Esco dalla Sapienza E c'ho una macchinetta Del caffè Quanto sarebbe bello Averci due arrosticini E un bestiame Capito Una boccata d'aria fresca Mi piace Ma insieme fai quello che vuoi Puoi anche non mangiarlo eh Magari ci Lo carezzi No Ciao Beg Ciao amici Beg Comunque Ciao Beg Nel senso In tenda In casa O Nella palafitta Noi Tutte le domeniche Alle 15 Ci potete ascoltare Tanto non vi serve una casa Vi serve un telefono Esatto Una connessione Adesso vediamo Ma magari scoccate Con noi la connessione Dove Spotify Apple Podcast Amazon Music E io c'ho fame Madò Però stavolta In tenda Per protesta Contro i ride E cucini male Ciao 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 Grazie.